Anche quest'anno si è svolto nella sede del CONI il tradizionale appuntamento con la festa dello sport. Un'occasione durante la quale, alla presenza di numerosi rappresentanti delle federazioni, associazioni ed enti sportivi presenti sul territorio, sono stati premiati coloro che si sono distinti nella stagione sportiva 2013 che volge al termine. 24 in tutti i premiati tra gli atleti, i dirigenti, i tecnici, gli arbitri e le società sportive che hanno ricevuto dal delegato provinciale del CONI, Giuseppe Iacono, un ricordo della manifestazione. Devo dire che quest'anno abbiamo voluto ripristinare, organizzandola con maggiori dettagli rispetto all'anno scorso, questa festa che ormai è diventata tradizionale, alla quale tutti tengono, per primo io, ed è un modo per dare un riconoscimento a quegli sportivi che continuano, nonostante tutte le difficoltà, a vivere questa loro grandissima passione per lo sport. Quest'anno verranno premiati tutti quelli che sono stati segnalati dalle varie federazioni, in più, federazioni, enti di promozione sportiva, eccetera, ma in più verranno consegnati alcuni premi speciali, tra cui una stella d'oro al merito sportivo e altri premi particolari per quanti, appunto, svolgendo quotidianamente la loro attività, si sono messi particolarmente in mostra. Il delegato provinciale del CONI, Giuseppe Iacono, è stato insignito nei giorni scorsi della stella d'oro al merito sportivo, benemerenza ricevuta dalle mani del presidente del CONI, Giovanni Caramazza, nel corso di una cerimonia svoltasi a Palermo, onorificenza attribuita per la sua lunga attività dedicata al mondo sportivo. Sì, questa è una piccola grande gratificazione per noi sportivi, anche la medaglietta d'oro, diciamo la stella d'oro, è un riconoscimento che ci riempie di tanta soddisfazione, è una piccola gratificazione che però condisce la nostra vita di sportivi e ci dà ancora maggiore spinta a impegnarci sempre di più.